Va bene, è stato un piccolo testo, le persone hanno pazienza, ti seguono volentieri, Antonella Quindi eccolo qua, l'affetto c'è, è forte e sono tutti molto attenti a quello che hai da dire Allora, riproviamo, siamo qui questa sera con Nutri Cool Life e con la dottoressa Antonella Miletto A parlare di qualcosa che è inerente agli animali Finalmente possiamo dedicare un'intera serata a loro Abbiamo sempre parlato dell'aspetto umano, d'altronde ci vede coinvolti in prima persona Ma assolutamente non possiamo disdegnare coloro che frequentano la nostra casa forse più di noi Quindi questa serata sarà dedicata a loro e andremo a scoprire appunto che cosa questi microorganismi Che magari partiamo proprio con la presentazione dei microorganismi, delle due confezioni Cosa possono fare per questi nostri cari amici e quattro zampe? Buonasera Antonella, ti lascio la parola per la presentazione dei prodotti I quanti prodotti che vogliamo presentare sono questo qua Questo è oramai le persone che sono presenti, lo dico per chi ancora non li conosce Sono due prodotti che ho ideato Cupnei, che è quello che ho creato tanti tanti anni fa Per dare sollievo alle problematiche della mia salute Ero affetto ad artrite romatoide deformante E un pool, ho creato praticamente una comunità di batteri Che lavorano in sinergia tra di loro A questo ho aggiunto delle erbe e poi diciamo che ho aggiunto le informazioni di tipo quantistico Grazie all'aiuto dell'Università Anglo-Cattolica di Roma con cui lavoro E soprattutto di miei amici che lavorano, che sono ingegneri Dottor Manzalini e soprattutto il Dottor Guglielmi Abbiamo fatto sì di poter mettere determinate informazioni nell'acqua di coltivazione Poiché sappiamo, grazie anche agli studi di Masauro Emoto e del Dottor Massimo Citro Possiamo dare delle informazioni, cioè l'acqua è in grado per la sua conformazione Di registrare delle informazioni che ne vogliamo dare E quando noi assumiamo quest'acqua queste informazioni vengono ridate praticamente al corpo Quindi ho utilizzato praticamente questa tecnica e abbiamo fatto degli studi E abbiamo visto come, grazie a questa caratteristica Il lavoro di questi batteri viene notevolmente potenziato Dopo aver creato questo, che ha ovviamente la capacità di rimettere in ordine se vogliamo Togliere un pochino l'infiammazione a livello intestinale Dà dei benefici a livello del corpo perché se noi riusciamo a rimettere in ordine Diciamo anche la flora intestinale Il corpo ne beneficia poiché diminuisce l'infiammazione Diciamo che gli organi, ecco, diamo un aiuto agli organi in questo caso Che sono in grado di aumentare la loro capacità nell'eliminare le sostanze di scarto E poiché abbiamo notato questa capacità Questo piccolo aumento a livello organico Ho pensato di creare poi quest'altro prodotto che è il Q-DRAIN Praticamente ho lavorato a livello del connettivo e del linfatico Per permettere, poiché le cellule quando devono pulirsi Diciamo, lo fanno normalmente E eliminano le sostanze di scarto nel connettivo Nella matrice E tutte quelle fibri Non stiamo a fare anatomia Però tutte le cellule sono circondate da questa struttura Che una volta si pensava fosse solo un tessuto di sostegno Si sa invece adesso che l'idea è una via di eliminazione di tutte le sostanze tossiche Oltre ad altre caratteristiche Quindi con il Q-DRAIN permettiamo Più che permettere, diciamo che anche in questo caso Andiamo a facilitare l'eliminazione di queste sostanze Quindi fanno un lavoro, lavorano insieme Proprio per migliorare quelle che sono Quello che io ho desiderato fare Ok Possiamo adesso parlare di animali Allora, io ribadirei anche una cosa a tutti quanti presenti Che siamo qui proprio per fare un'interazione importante questa sera Quindi nel momento in cui desiderate fare una domanda specifica Non fate altro che alzare la manina E vi verrà data assolutamente la possibilità di parlare direttamente con la dottoressa Nel frattempo partirei con questa famosa intolleranza alimentare Che hanno anche gli animali a quanto pare Sì, allora come dicevamo prima Anche gli animali hanno intolleranze alimentari Io in particolare Quando devo lavorare su un animale La prima cosa che faccio è proprio capire Se l'alimentazione che ha seguito fino a quel momento È giusta, diciamo, è giusta per lui E siccome anche per gli animali è stato visto Così come per l'uomo Che la maggior parte delle malattie Almeno più del 90% delle malattie Arriva da una problematica del cibo Cioè di intolleranze alimentari Le intolleranze alimentari cosa sono? Sono praticamente A differenza dell'allergia Le intolleranze sono la risposta dell'organismo a un accumulo Quindi per anni magari si mangia determinate cose Che danno fastidio all'organismo Ma non abbiamo una risposta immediata Il prurito, ma tantissime cose Il vomito, la gastrite, la diarrea Poi altre patologie Che possono essere anche patologie autoimmuni Patologie cronico-degenerative Eccetera eccetera Sono tutte situazioni Che arrivano da un'infiammazione cronica Il famoso killer silenzioso Come lo hanno chiamato L'infiammazione cronica silente Che per anni e anni Ce la portiamo dietro Senza rendercene conto Finché poi appunto Abbiamo le manifestazioni Ok perfetto Allora andiamo un attimo All'atto un po' più pratico La posologia Gli animali Dimensioni diverse Razze diverse Come ci dobbiamo comportare con loro Con questi due prodotti Ok Allora come detto I gatti e i cavalli rispondono molto velocemente I gatti rispondono più velocemente Degli altri in assoluto Nei gatti Anche adulti Basta una volta Delle 5 alle 10 gocce Due volte al giorno Per ottenere subito Dei buoni risultati Anche in questo caso In un gattino Ne daremo 2-2-3 gocce In un animale adulto Si arriva anche a 10-10 gocce Mattino e sera Che varia ovviamente Anche in base alla patologia Per quello che riguarda i cani Passiamo ai cani La posologia varia A seconda della taglia E anche dell'età Ma di solito i cuccioli Arriviamo in base alla taglia Se un cane pesa mezzo chilo Gli ne darò 10 gocce Come un gatto Il cane risponde molto meno velocemente Invece avrò un cane Diciamo che dai Entro i 5-10 kg Ne diamo un ml Per passare poi Piano piano Ai 1,5 Fino a 15 kg E poi arriviamo piano piano Fino a dare anche 5 ml Come un umano In un animale Che ovviamente Ha la stazza di un umano Quindi dai 50 kg in su Tipo un San Bernardo Che pesa 80-90 kg E' più pesante anche di una persona E gliene diamo anche 5 ml Due volte al giorno Passiamo poi Che so Ai conigli I conigli lo prendono E possiamo dare delle gocce Di solito La posologia del coniglio E' come quella di un gatto Mentre in un cavallo In un uvino In un uvino Che si arriva anche a 10 ml Mattino e sera Che glielo si può dare Per bocca Oppure nella pietanza Varia poi in base Anche come ho detto prima Alla patologia Quindi Così come io consiglio In umana Che ha una patologia cronica Vecchia Da molto tempo Si comincia con dosi Un pochino più piccole Per non scatenare Una reazione Diciamo Di pulizia Di guarigione Che a volte Capita poco Negli animali E' più facile Vederla in un umano Però Che si possono ripresentare Vecchie patologie O Molti dicono Avevo questa patologia Ero guarito E ho ritornato In realtà Non eri mai guarito Ma era semplicemente La sintomatologia Cioè la malattia Era sempre Nascosta Diciamo Quando si lavora In questo modo Tante volte Più negli umani Vi dico Che negli animali C'è proprio Questa 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 reazione Ma è in realtà Soltanto il corpo Che sta cercando Di liberarsi Quindi Così come succede Nelle terapie omeopatiche Il cosetto Peggioramento omeopatico Noi con questi prodotti Otteniamo più o meno Le stesse Le stesse Risposte E basta Ti chiedo una cosa Antonella Cerco di andare veloce Perché se me ne vado Perché se me ne vado Non mi fa Brava Queste gocce Agli animali Le mettiamo nel cibo E se sì Mi immagino il cane Che aggredisce il cibo Ma il gatto È un pochino più fuori Il gatto ovviamente È l'animale Che ha più difficoltà Ma con tutto Perché il gatto È un pochino più Innanzitutto più schizzinoso Si accorgi subito Che gli hai messo qualcosa nel cibo Ci sono gatti Che lo prendono volentieri Così come cani Che te lo chiedono Avevo dei cani Molti mi dicono Che il cane Aspetta la sua dose Proprio la vuole E altri che invece Li deve rincorrere Per carità Anche per loro Di solito L'animale Che ne sente il bisogno Lo prende Lo prende più volentieri Nei gatti in particolare Lo faccio dare O in bocca Magari diluendolo Ulteriormente Anche con dell'acqua Oppure messo direttamente Nell'acqua da bere In modo che l'animale Mentre beve Lo assume piano piano E l'unica accortezza È non utilizzare In questo caso Delle ciotole Quando si mette nell'acqua Delle ciotole di metallo Ma utilizzare Ciotole di plastica O di vetro Di ceramica Quella è l'unica accortezza Poi un'altra cosa Che si può fare Con i gatti È mettergliela Sulla zampa Sporcare bene il pelo In modo Il gatto non ama Sentirsi sporco E quindi è costretto A leccarsi E quindi ad assumere Il prodotto Questo è interessante Questo è interessante E si può fregare Un pochino così Poverino Per quello che riguarda Invece il cane Di solito Glielo metti in bocca O nel cibo Perché è indifferente Come glielo dai L'essenziale Che venga preso In alcuni soggetti Anche piccoli Come gattini O altro Che non si può dare Per bocca Per mille ragioni Lo strofino All'interno Delle orecchie O sotto O sotto I polpastrelli Perché Sia i batteri Sì Ma soprattutto Mi interessa In quel caso L'informazione Del prodotto Quindi parliamo Di informazioni Tipo quantistico Che vengono Prese dall'animale Anche solo Per contatto Della pelle Quindi si può usare Anche questa strategia Come nei conigli Magari L'ossipistrofina All'interno Del padiglione auricolare Poi per i grossi animali Beh un cavallo Altro Glieli puoi tranquillamente Mettere appunto Nella pietanza O sparare in bocca Con una siringa Di solito Si fa Si usa così Diciamo che il gatto Forse è quello più Più Problematico Difidente È diffidente Ti chiedo una cosa Se stanno Per qualche motivo Prendendo dei medicinali Di soluzioni chimiche Che cosa Che cosa Che cortezza Bisogna ad operare Ma non abbiamo Siccome sono dei Dei veri propri Probiotici E postbiotici In realtà Possono essere dati Non c'è Non bisogna Io in particolare Uso tutte Metodi naturali Quindi omiopatia Fitoterapia Però Lo si dà tranquillamente Anche in animali Che stanno Prendendo Delle terapie chimiche Quindi sia Non so Dei farmaci Per il cuore E altre cose Non bisogna Assolutamente Interromperli Perché abbiamo Visto tra l'altro Che Con degli studi Fatti A Bologna Che Questi prodotti Questi batteri Sono in grado Anche con i farmaci Omiopatici Con i rimedi Omiopatici Sono in grado Di migliorarne Le potenze Ecco Diciamo che Le potenze La capacità Abbiamo visto Proprio questo Ma Ti dico In caso Dovesse venire Assunto Con L'antibiotico Il cortisone Questi elementi Possono danneggiare Invece I microrganismi I batteri Beh Diciamo che Queste In particolare Gli antibiotici I cortisone Gli antinfiammatori Purtroppo O inibitori di pompa Rovinano l'intestino Questo si sa Purtroppo Fanno danni A livello del microbiota Assumendoli Dandolo insieme Non contemporaneamente Ovviamente Ma possono Sì Vanno diciamo A togliere un pochino Quelli che sono Ovviamente i danni A livello del microbiota Ma si sa che Comunque Anche al di fuori Dei nostri prodotti Dopo che si fa Una terapia Antibiotico O altro E' sempre bene Prendere Dei fermenti Che non vanno dati Per poco tempo Purtroppo Vedo che A volte vengono dati Solo per 5-10 giorni Quando in realtà Quando prendi Un antibiotico Alcuni tipi di antibiotici Poi ci mettono Addirittura Alcuni tipi di antibiotici Ci vogliono Quasi due anni Per rimettere in ordine Un intestino Quindi Poi si crea Antibiotico resistente Altre cose Insomma Comunque La cosa importante E poi Diciamo Prendere il buono Del farmaco chimico E poi Andare a Rimettere in ordine I danni Che possono aver fatto A livello Dell'intestino Normalmente Io Questi prodotti Io li assumo Ormai Da 12 anni Però Io tendo a darli Anche ai miei animali Tutti i giorni Non faccio dei cicli Faccio che darglielo Continuamente Tutti Tutti i giorni Proprio perché Anche per Negli umani in particolare Ma anche negli animali Ma soprattutto Quelli che vivono A stretto contatto con noi Sono sottoposti Anche loro a stress Non fanno una vita naturale Vivono in appartamento Se noi siamo arrabbiati O altro Loro sono delle spugne Quindi anche loro Se noi siamo stressati Lo sono anche i nostri animali E allora Hanno molte più Nel mio lavoro Noto questo Io vivendo in montagna Noto proprio questa differenza Gli animali che vivono Un pochino più distaccati Da noi Che riescono ad avere Il loro giardino O magari vivono in branco Come può essere per i miei Hanno molte meno patologie Anche di tipo Di tipo psicologico Ma ad esempio Una cosa che ho notato molto E che negli animali Quando ho studiato Quando ero all'università La gravidanza isterica Era considerata una patologia Adesso c'erano Moltissime cagnoline Ce l'hanno Ed è considerato Parafisiologico Beh io qua Negli animali Che guardo In montagna In campagna Che dove abito Praticamente Non ce l'hanno quasi mai Non hanno mai La gravidanza isterica Ma proprio perché Vivono in maniera Molto più naturale E quello è importante E soprattutto Tendono a mangiare Cose più naturali Cibo più Cibo vero insomma Ma ho notato Proprio questo Però io tendo a darlo Appunto sempre Poi si possono fare Dei cicli ovviamente E io consiglio di farlo Soprattutto Ma sia per noi Sia per gli animali Ogni volta che c'è Il cambio di stagione Ed è molto importante Quando si passa Dall'inverno Alla primavera Che lì bisogna Il corpo deve dare Il meglio di sé Perché la primavera È il risveglio Il momento del fegato Il momento del legno In agopuntura Ed è il momento Della fioritura Quindi la fioritura Vuol dire avere energia Se l'organismo È ammalato Non ha energia È intossicato Ovviamente L'animale starà male E quando è nel nostro lavoro Noi veterinari Vediamo proprio Che tra l'inverno E la primavera E quando si passa Dall'autunno All'inverno È il momento Proprio dove Gli animali Più anziani O Succede anche Nel campo umano È il momento In cui se ne vanno Ci lasciano Perché non hanno La forza vitale Per fare quel passo Quindi Diciamo Che più che curarsi Io tendo a fare prevenzione Per questo Lo do spesso Lo do sempre Proprio per mantenere Sempre un certo equilibrio E una certa capacità Del corpo Di rinnovarsi E affrontare Le varie sfide Della vita Diciamo Hai parlato di alimentazione Ok Ma un animale Che è ammalato Sta facendo una terapia Una qualsiasi terapia Sì È necessario Cambiare L'alimentazione? Beh Se Nel mio ambulatorio Arrivano animali Che Di solito Mi arrivano animali Che da tanto tempo Che stanno male Vengo un po' Diciamo che io sono un po' L'ultima razio Perché io faccio Una medicina Un po' diversa E quindi Mi capita Mi capita Spesso Di avere animali Che sono anni Magari che stanno male E mi vengono portati Quindi Li devo rifare tutto A volte Devo anche cambiare Le terapie Ovviamente Non vado a togliere Un farmaco salvavita Come può essere Il farmaco per il cuore Quello è una cosa Che non oso fare Però Tante volte Tolgo tutto Per fare pulizia Cioè Elimino tutto Per fare pulizia Ma soprattutto Cambio l'alimentazione Perfetto Quello lo faccio sicuramente Che cosa succede Nel comportamento Dell'animale Prendendo questi Microrganismi Ma abbiamo Avuto Tante Cioè abbiamo Proprio visto Che Anche a livello Caratteriale Abbiamo animali Stressati O animali Mi è capitato Di animali Aggressivi Che invece Prendendo questi prodotti Siccome abbiamo Noi lavoriamo Sull'intestino Rimettendo in ordine Un po' l'intestino Noi lavoriamo Si sa che A livello intestinale Oltre al sistema immunitario Viene prodotta La serotonina E molti ormoni Che regolano Proprio il comportamento E lo stato di benessere Quindi mettendo Diciamo Togliendo questa infiammazione Noi promuoviamo Questa Produzione di serotonina Che attraverso Il nervo vago C'è il famoso Connubio Intestino Cervello Molti animali Hanno dimostrato Di essere molto più calmi Animali aggressivi O che stavano Molto lontani Dai proprietari Invece Si avvicinavano Chiedevano Coccole Insomma Hanno cambiato Completamente Il loro atteggiamento Il lavoro In questi casi Io soprattutto Quando gli animali Sono stressati O sono soprattutto Quelli aggressivi Io consiglio anche Di spruzzarlo Proprio Nell'ambiente Ogni tanto Si spruzza Nell'ambiente O nelle cucce Degli animali O sul pelo Quando riesci E gli animali Si calmano Lo utilizziamo Soprattutto Quando lo lavoriamo Sui grossi animali Soprattutto L'abbiamo utilizzato Nei maiali Che negli allevamenti Di maiali Questi si aggrediscono Continuamente Perché sono stressati Invece Dandoglielo Nel cibo O irrorandoglielo Nell'aria Si calmano E si aggrediscono Molto Molto meno Perché i maiali Quando sono stressati Si aggrediscono E si mangiano Tra di loro Perché loro fanno Del vero e proprio Cannibalismo Invece abbiamo avuto Dei buoni risultati Quindi proprio L'icca calma Ecco quindi Antonella Mi stai dicendo Che se io Mi dovesse dimenticare Qualche anniversario Arrivo in casa Spruzzo Spruzzo Non c'è una ribellita Sono tranquillo E tua moglie Non ti uccide Facile Esatto Allora Sì Ti chiedo Stanno arrivando Un po' di domande In che diluizione Nebulizzarlo In che diluizione Ma solitamente Io metto Dipende Insomma Se parliamo di allevamenti Ovviamente Un'altra cosa In questo caso Parliamo dei nostri animali In casa Io di solito Metto 10 ml In mezzo litro D'acqua 10-15 ml In mezzo litro D'acqua E poi lo utilizzo Quando serve A quello che serve Benissimo Benissimo Abbiamo parlato Tanto degli animali Più comuni Domestici E quelli che sono Più vicini a noi Ma va bene anche Per il discorso Dei pesci Animali esotici Non cambia No no Non cambia Si può utilizzare Anche in questi Con i dosaggi giusti Si utilizza Nel Sia negli acquari Sia di acqua dolce Sia acqua di mare Non cambia Lo si diluisce Nell'acqua E loro lo assumono Sia attraverso La pelle Le branchie Mentre mangiano E Lo uso anche Nei rettilari Le mie tartaruga Ad esempio Lo metto sull'insalata E se lo mangiano E anche nei rettilari Vaporizzandolo Sulla pelle Di guane O altri serpenti Lo utilizziamo così E invece Se ci fossero Delle ferite Per quello Che riguarda Le ferite Lo usiamo Sì Su ferite Proprio aperte O anche Ferite infette Perché i batteri Hanno la capacità Di nutrirsi Praticamente Di ciò Che per noi È Considerato Roba Di scarto Impuro Insomma Pus O altre cose Anche Il tessuto Oramai Necrotico I batteri Se ne cibano E I batteri Ogni volta Che mangiano Producono Dei metaboliti Questi metaboliti Sono importanti Perché In questo caso A livello Delle acute Sono in grado Di rigenerare La pelle La puliscono E quindi Migliora La cicatrizzazione Infatti Abbiamo Insomma Avevo preparato Anche delle foto Eventualmente Ma qui S'è stato tutto Però Le ferite Si chiudono Molto velocemente Senza bisogno Neanche Di mettere Pumate antibiotiche O altro Basta soltanto Tenere pulita La zona E applicare Questi prodotti Perché Una loro caratteristica Quella di ripulire E rigenerare Perché loro Hanno un'azione Anche antiossidante E rigenerativa Quindi a livello Cutaneo Chiudono ferite Anche nel giro Di poco Anche Forme infiammatorie Lì dove Gli animali Magari si sono grattati Sono feriti Nel giro Di anche Di 12 ore Anche meno Si Hai subito La riparazione Quasi completa Anche perché La caratteristica Di questi prodotti È quella Abbiamo fatto Degli esami Di metabolomica Si dice Cioè I batteri Producono Quando Sia nell'intestino Sia adesso Detto sulla pelle Ma Loro Quando mangiano Producono Delle sostanze Queste sostanze Sono i postbiotici E sono tutte Sostanze Importantissime Per il nostro organismo E noi abbiamo Fatto degli esami E abbiamo visto Che l'opnea In particolare È in grado Abbiamo visto Produce Più di Quasi 6.000 Metaboliti Quindi Il laboratorio Che ce l'ha fatto È rimasto stupito Perché non hanno mai visto Una cosa del genere Quindi Sono tutte sostanze Che servono All'organismo Che servono Anche a produrre Quindi enzimi E altre sostanze Utili per noi Esatto Allora Qui abbiamo Una persona Che ha fatto Natalino Che ha fatto Una sperimentazione Ha preso Non so se Qui dice 5cl di cupney Non so se 5cl o 5ml In un bicchiere d'acqua Ozonizzata Ci sono controindicazioni particolari? No Non ci sono Perché Sono 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 batteri Noi abbiamo Batteri Sia Che vivono In assenza di ossigeno Sia che vivono Con l'ossigeno Quindi Anche ozonizzandoli Non Non succede nulla Cioè Non li può uccidere Allora Poi invece Ne abbiamo Nata Che dice È una gatta Di 13 anni E glielo diluiscono Nell'acqua E ho notato Che vomita spesso Può essere Il cupney Che le fa vomitare Che la sta sistemando Bisogna vedere Bisogna vedere Quanto gliene mette Il gatto è un animale Molto sensibile Quindi a volte Bisogna Basta Un animale così Basterebbe dargliene Una gola Bisogna vedere Se già vomitava prima O sta vomitando Mentre lo prende Allora Bisogna capire questo A volte vomitano Perché hanno bisogno Di vomitare Cioè Quello non fa altro Che aiutarli A eliminare Quando noi Eliminiamo Sia uomini Sia animali Il nostro corpo Sceglie sempre Una via Preferenziale Dove Dove eliminare Quello che Quello che non serve I tossici Diciamo E quindi può essere A volte Mi dicono Ma anche le persone Hanno avuto Scariche diarroiche Di uno o due giorni Ma in realtà Non è una diarrea Patologica Ma può essere Una diarrea Protettiva Perché l'organismo Deve liberarsi E in solito I due o tre giorni Passa Oppure c'è il vomito A volte Proprio sulla pelle Vengono proprio Delle suppurazioni Dipende Dipende sempre Dall'animale Come Come il corpo Sceglie Di utilizzarlo Poi ci sono Ovviamente Animali Che sono Particolarmente Sensibili In quel caso Bisogna Sempre Diminuirne Ma interromperlo Ma basta Nel gatto Anche soltanto Una goccia Diluita in un pochino D'acqua E messa In bocca Sulle zampe Come ho detto Prima Ecco Anna Maria Ci dice Che lei Utilizza Il prodotto Nel pasto Per i gatti Però Ha le ciotoline Di acciaio Ma quando Io No Di solito Quando è cibo Può essere anche D'acciaio E quando lo metti Nell'acqua Perché nell'acqua Rimane per tanto tempo E le pareti Sono a contatto Quando lo metti Nel cibo Viene mischiata Il cibo In quel caso Lì Non è un problema È proprio L'acqua Io mi riferivo Proprio All'acqua Ci chiede I miei cagnolini Quando li porto In campagna Mangiano erba Tipo pecorelle E poi Vomitano È normale? Non è normalissimo Ma gli animali Che fanno così È perché sono Intossicati E loro Istintivamente Cercano di vomitare Usano il vomito Per cercare Di pulirsi Quindi In questo caso Bisogna aiutarli Sì Che può essere Soprattutto Di solito Diciamo Il fegato Un po' Intossicato E un intestino Infiammato Di solito Ecco Qui arriva Una domanda Interessante Intanto Ciao Viaggio Che dice Nell'acqua Magnetizzata Si può utilizzare Il prodotto? Sì Yes Si può Perfetto Anzi Non vengono Io l'utilizzo Anche L'acqua Magnetizzata Per alcune cose E funziona Funzionano bene In poca quantità Però L'acqua Magnetizzata Se ne devono mettere Pochi Perché Spande ancora di più Come? Perché Spande ancora di più Perché Magnetizzandoli Aumenta ancora La loro La loro Capacità Poi dipende Per cosa La vuoi usare Ovviamente Si ci dicono Anche nell'acqua Ionizzata Ma presumo Di sì O meglio Sì 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 Esatto Ma bisogna avere Questa accortezza Anche nell'acqua Ionizzata Ridurre il quantitativo Oppure no? Ma io di solito In queste acque Sia ionizzata Sia magnetizzata O ozonizzata Vedo che ne basta Un quantitativo Minore Minore Ok Ok Patologie croniche Per quanto tempo Va utilizzato Il prodotto? Beh come ho detto Prima La patologia cronica È cosa vecchia Di tanto tempo Quindi andrà usata Il minimo che bisogna dare Quando hai una patologia cronica O cronico degenerativa Sono per gli animali Come per le persone Almeno nove mesi Perché è il tempo Che è stato visto Da studiosi Ma non per il mio prodotto In generale Perché si possa ristabilire Un buon microbiota Mentre contemporaneamente Fai attenzione ovviamente A ciò che mangi A ciò che vivi Insomma Per gli umani Soprattutto Anche allo stile di vita Perché non puoi prendere Qualunque integratore Che ti rimetti in ordine L'intestino Se tu continui a vivere Nel modo in cui Ti ha portato alla malattia Questo è obbio Allora Noi abbiamo sempre parlato In questa serata Di patologie Problematiche Risolvere soluzioni Ma nel caso Io avessi il desiderio Di fare della prevenzione Lo posso fare? Secondo me Bisognerebbe farlo Io vedi Io pensavo Gli animali Non pensavo a me stessa Mi è avuta L'attrito aromatoide Quindi Dico sempre agli altri Evitate Non bisogna curarsi Quando si arriva Alla patologia Ricordarsi Bisognerebbe fare prevenzione Prevenzione A 360 gradi Ovviamente Alimentazione Curare l'intestino Curare Il fisico Al movimento Eccetera Eccetera E anche Ovviamente I nostri pensieri Io sono per i pensieri Positivi Sempre Ok Intanto invito Se qualcuno Ha qualche animale Che voglia fare approfondimenti Di fare tranquillamente La domanda Oh scusa Barbara Non ti avevo visto Ma prego Prego Non so chi deve attivarti Il microfono Però ti devo attivare Il microfono Aspetta Non so se così basta Eccola qua Aspetta Sì Ce l'ho fatta Allora Vorrei fare un po' Degli appunti Allora Il primo Ho la Luna Che è un Bull Terrier Di 12 anni E lei Diciamo che è una veterana Dei microorganismi Perché è già due anni Che usa i microorganismi Da quando io sono entrata E il veterinario Mi fa sempre i complimenti Perché un Bull Terrier Per 12 anni È un'età Molto avanzata È successo ieri Che l'abbiamo Siringata Perché mi ha fatto Un'oteomatoma Nell'orecchio Non l'abbiamo Ho preferito Non operarla Perché Avendo un piccolo Soffio al cuore A 12 anni L'anestesia Non me la sentivo Di fargliela fare Io adesso chiedo Ho iniziato Siccome l'hanno Siringata Ed è uscito Tutto il sangue Si è abbastanza Gonfiato Io continuo A medicarla Con i microorganismi L'ho tutta Fasciata Comunque In più Gli sto dando Due gocce Dentro all'orecchio Sì Va bene Così Cioè posso Sì Puoi continuare Puoi mettere Mettendolo nelle orecchie Si possono curare Anche le otiti Eventualmente Lo utilizziamo Anche in quel modo L'otematoma Ovviamente Più che un'otite Esterna È un trauma Del padiglione Quindi è un ematoma Del padiglione Sì Sì Lo puoi usare Tranquillamente Sì Ecco Poi un'altra cosa Quando parlavi Del prurito In effetti Siccome i miei Fanno È da sempre Che fanno La barfa E c'era l'una Che ultimamente Aveva questo prurito Andava sempre In leccamento Delle zampe Ok E ho riscontrato Che praticamente Non mi digeriva Più la carne cruda Adesso sono passata Dalla casalinga Cioè Li do un po' Di verdure cotte Un po' Di ricotta Perché avendo 12 anni Devo cambiare Un attimo La sua alimentazione E in effetti Vedo che il prurito È molto Cioè Sta diminuendo Eh sì In quel caso lì Di solito Soprattutto adesso Che arriva la primavera C'è un po' Di umidità È facile Che gli animali Abbiano Soprattutto chi ha Intolleranza Al pollo Al glutine A altre Insomma Soprattutto pollo E glutine E abbiano La malassezia Che è questo lievito Che cresce Che è normalmente Presente Sulla pelle Degli animali Ma è legato All'intolleranza alimentare No no Beh Non ho mai dato Di principio Ai miei cani Perché do agnello Do cavallo Tutte quelle Manzo E quant'altro Ma bisogna anche vedere Che nel tempo Non abbia sviluppato L'intolleranza Perché le intolleranze Possono cambiare Come dicevi Ovviamente Ecco una cosa importante È variare molto L'alimentazione Non dare sempre Le solite cose Perché Dando un'alimentazione Varia E variegata Noi andiamo A promuovere Un maggior quantità Di batteri Di famiglie Di batteri A livello intestinale Che è la cosa importante Mangiare sempre Le stesse cose Sia per noi Sia per gli animali Va a favorire Alcuni ceppi Ma non tutti Quelli che in realtà Sono 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 importanti Quindi è meglio È meglio Variare sempre Beh io loro Do anche il pesce Do ricotta C'è vario Come alimentazione C'è le verdure Zucchine Carotte C'è vario Sempre Sì ma tu guarda Come si comportano E poi al limite Si possono studiare Proprio le intolleranze Di quel soggetto E capire Soprattutto se arriva A una certa età Può Può essere più Intossicato Ovviamente Ma per l'età Non perché L'hai tenuto male Perché si invecchia E quindi Poi se Posso portare Una testimonianza Portala Certo Oggi ho fatto Un soccorso Di un ragazzo Che è scomparso Qui a Campo San Piero Da noi E prima che dicevi Il discorso Dei microrganismi Su cani aggressivi Su cani agitati Praticamente Questo ragazzo Ha parcheggiato La macchina È andato Nella stazione Di treni Ha preso il treno È andato Verso Bassano In questo caso Quando il cane Ti fa la segnalazione Arriva al punto In cui dice Io mi fermo qui Perché da qui Non sento più l'odore Il cane va in stress Perché non trova La persona Siccome io Mi porto sempre Delle bottigliette Di micro A fine della ricerca Io ho dato 3 ml A blu Blu mi pesa 22 kg 3 ml Li do sempre Io mattina e sera Io ho visto Rispetto agli altri Cani dei miei colleghi Che lui era più rilassato Non mi è andato Tanto in stress Bene Confermi quello Che ho detto prima Esatto E lo vedo anche Molto più concentrato Quando lui parte Nella ricerca In effetti Adesso loro Sono già due anni Che li assumono Però io continuo Sempre Tutti i giorni Mattino e sera Bene Grazie Grazie Ottima prevenzione Grazie Possiamo dire qualche cosa Antonella Per quanto riguarda Come Proteggere La bottiglietta aperta Dei microorganismi Quali sono le accortezze Allora Le accortezze Sono Solitamente Una volta aperta Bisognerebbe tenerla in frigo Io consiglio Comunque Di tenerla lontano Da fonte elettromagnetica Ovviamente Il frigorifero È una fonte elettromagnetica In questo caso In realtà Loro sono protetti Perché Loro ricevono Continuamente Informazioni Finché C'è liquido Nella bottiglia Questo liquido Viene continuamente Informato Dal Tipo di informazioni Che abbiamo deciso Di mettere Se uno vuole essere Ancora più sicuro Può Avvolgerla In una stagnola E tenerla In frigorifero Perché la stagnola L'alluminio Blocca Blocca Il passaggio Dei campi Esatto Ok Ma Posizionato Nello stipettino Della cucina Al buio Perché L'importante So che Anche Insomma Il sole È un elemento Che Potrebbe Infatti Infatti La bottiglia È scura Proprio Per quello Perché Il sole Può Può Alterare E soprattutto I batteri In particolare Questi Vivono Fino A 300 Grad Centigradi Ma Le informazioni Se superi Una certa Una certa Soglia Una certa Temperatura Che in realtà Deve avvicinarsi Quasi Ai 100 Grad In realtà Puoi Perdere Delle informazioni Poi In questo Caso No Perché Noi Continuiamo A informarle Perché Mentre Sono Nella bottiglia Abbiamo Fatto Sì Che Abbiamo Escogitato Un modo Perché Le informazioni Che noi Diamo Durante La coltivazione Vengano Mantenute Durante Cioè Finché La bottiglia Viene Consumata Proprio Perché Vengono Spedite Quindi Non Sappiamo Se Passano Sotto Raggi X O Altre Cose Quindi Le abbiamo Protette In questo Modo Sì Anche Simona Dice Io Li tengo Fuori Frigo C'è Qualche Problema No No Io Anch'io I miei Sinceramente Li tengo Fuori Frigo Non Si alterano Perché Loro Sono Comunque Vivi Vengono Sempre Informati Quello Che Dico Sempre Comunque Non Tenerli Proprio Né Al sole In un Posto Lontano Dal Forno A micro Onde Quando Si può Avere Queste Accortezze Però Soprattutto Adesso Che Andiamo Verso Il Caldo Si Posso Una Volta Aperti Si Possono Tenere In Frigo Benissimo Non Perdo Ovviamente Non Perdo Di Efficacia Si Addorme Alì Se Fa Troppo Freddo Si Addorme Un Attimino Poi Si Sveglia Ci Mettiamo In Letargo Esatto Allora Credo Che Siamo Stati Abbastanza Esaustivi Perché Vedo Che Le Domande Sono Terminate Ok Pensi Ci Particolare In Questo Momento Potremmo Parlarne Per ore A parte Quello Sugli Animali Ovviamente Potremmo Parlarne Per giorni Dipende Se Avete Delle Argomenti Perché Se No Non Lo So Se Rimaniamo Su Se Rimaniamo Sul Sull'utilizzo Di Questi Prodotti E Una Cosa Che Mi In Mente Prima Quando Vi Ho Detto Come Diluirlo Per Metterlo Nell'ambiente Per Gli Animali E La Stessa Diluizione Che Utilizzo Per Pulire I Vetri Se Vi Interessa Perché Hanno Questa Capacità Di Digerire Tutto Ciò Che Anche Sporco Che Grasso Che Ruggine Quindi Se Tu Li Utilizzi Praticamente I Vetri Vengono Meravigliosi Ve Lo Posso Assicurare Vengono Bellissimi Così Come Così Come Togliere La Polvere Perché Loro Hanno una carica Elettrica Che Tiene Lontana La Polvere Grasso